La priorità è il ritiro delle sanzioni sul petrolio. Vogliamo che le compagnie straniere tornino al più presto nel nostro paese. Uscito con un pugno di mosche dalla recente riunione dell'OPEC, l'Iran guarda avanti e minimizza con diplomazia l'impatto del mancato taglio alla produzione di greggio che avrebbe restituito ossigeno alla sua economia. Grazie anzitutto a Bijan Amdar Zanganè, ministro iraniano del petrolio, per essere con noi su Euronews. L'OPEC ha da poco tenuto la sua riunione più importante da sei anni a questa parte. Nonostante i suoi sforzi, l'Iran non è riuscito a ottenere i risultati che sperava. Perché i principali produttori di petrolio dell'OPEC, compresa l'Arabia Saudita, non sono stati dalla sua parte? Ovviamente sostenevamo un taglio della produzione. Non abbiamo proposto una cifra esatta, perché a determinarla dovrebbero essere piuttosto analisi e valutazioni di mercato. A quanto pare, dalle nostre discussioni, è però emersa la necessità di prendere tempo per valutare in quale misura procedere al taglio di questa produzione. Per maturare una decisione definitiva, dobbiamo prima poter disporre di ulteriori dati e vedere anzitutto come i mercati reagiranno ai nuovi prezzi. Come sa, l'OPEC deve prendere ogni sua decisione sulla base del consenso della maggioranza dei suoi paesi membri. Lei parla di consenso, ma quanto abbiamo visto è che, come già in passato, in occasione di altre riunioni dell'OPEC, anche questa volta l'Arabia Saudita ha ottenuto quanto voleva. Possiamo quindi forse dire che, in quanto produttrice di un terzo del petrolio dell'OPEC, è sempre all'Arabia Saudita che spetta l'ultima parola? Sulla carta l'OPEC è come una società in cui ogni azionista ha diritto a un voto, indipendentemente dal capitale che detiene. Di fatto la realtà è però che il livello di produzione, la capacità di produzione e la portata delle eccedenze giocano un ruolo determinante sul mercato. E ciò è qualcosa da cui dobbiamo trarre una lezione. Più in generale, mi lasci dire che l'OPEC è un'organizzazione che mira a far cooperare soggetti tra loro concorrenti. È l'unica organizzazione in cui i paesi del terzo mondo non solo si trovano a lavorare insieme da oltre 50 anni, ma che ha permesso loro di individuare interessi comuni nel lungo termine e di cooperare in nome di questi interessi comuni, nonostante le divergenze che possono separarli. È importante per tutti che questa cooperazione prosegua, perché in caso contrario l'OPEC perderebbe la sua ragione d'essere. Ciascuno dei suoi membri ha ovviamente i propri interessi da difendere. L'Arabia Saudita è uno dei principali produttori ed esportatori di petrolio. Parliamo di un'esportazione che, tra petrolio e i suoi derivati, ammonta 9 milioni di barili al giorno. E questo significa che con un calo di prezzi di 30 dollari al barile, l'Arabia Saudita subirà perdite pari a circa 110 miliardi di dollari l'anno. Se hanno accettato un simile pregiudizio, a motivarli nel sostenere questa decisione dell'OPEC devono quindi esserci stati enormi interessi di sicurezza nazionale. Quali crede che siano questi interessi dell'Arabia Saudita? Da semplice ministro del petrolio non so risponderle. Altri politici hanno però formulato svariate analisi. Non saprei però quanto contengano di vero se si tratti di semplici ipotesi. Certo è però che sui media e sulle piazze finanziarie fioriscono le interpretazioni di quanto sta accadendo sul piano politico. In che misura il peso soltanto relativo della produzione iraniana ha limitato la sua influenza sul processo decisionale? Prima le ho risposto in maniera un po' ottimistica. Ovviamente il peso di ciascun membro dell'OPEC è determinato dal suo livello di produzione e dalla sua capacità a produrre degli eccedenti. Tenendo conto delle divergenze insieme all'OPEC e considerando anche le evoluzioni del mercato del petrolio è possibile immaginare che un giorno l'OPEC perda il suo controllo sul mercato globale? Una delle più grandi preoccupazioni dell'OPEC è stata da sempre quella delle quote di mercato. Negli ultimi anni le quote di mercato dell'OPEC si sono ridotte progressivamente. Se questa tendenza si confermerà e oltrapasserà un certo limite, l'incidenza dell'OPEC diventerà irrisoria. A margine della recente riunione dell'OPEC lei ha incontrato anche i vertici di compagnie petrolifere come Total e BP, compagnie che in passato hanno giocato un ruolo importante per l'Iran ma che ora l'hanno perso a causa delle sanzioni. Di cosa avete discusso? State forse cercando di aprire agli investitori stranieri malgrado le sanzioni? Questo è senza dubbio il nostro obiettivo. Vogliamo che queste compagnie petrolifere internazionali tornino subito a lavorare con noi. E non è soltanto una questione di investimenti e di denaro. Per sviluppare l'industria petrolchimica, del gas e del petrolio del nostro paese più ancora del loro denaro abbiamo bisogno della loro tecnologia e della loro professionalità sul piano gestionale. Lei si mostra molto ottimista riguardo al ritiro delle sanzioni. Nel migliore dei casi, anche se si decidesse di rimuoverne alcune, i tempi sarebbero però lunghi e alla fine ciò potrebbe anche non avvenire prima della fine del mandato del presidente Rouhani. Non sono pessimista come lei. I recenti negoziati sul nucleare ci insegnano però che la via dell'accordo è sempre piena di ostacoli. Per noi le più importanti sono le sanzioni sul petrolio. Se delle sanzioni venissero rimosse dovrebbero quindi essere quelle. Se restassero in piedi, per noi equivalrebbe a non eliminare nessuna sanzione. Quanto costano le sanzioni all'Iran? Il prezzo è sicuramente considerevole, ma una cifra esatta la annuncerò più avanti. L'impatto è negabile, ma non così elevato come alcuni credono. Un'ultima domanda a proposito dei giacimenti di gas in comune tra Iran e Qatar. In passato lei aveva detto che dopo tre anni l'Iran avrebbe raggiunto le stesse quote di produzione del Qatar. Quanto ha perso finora mancando questo obiettivo? Raggiungeremo i livelli di produzione del Qatar e forse riusciremo anche a superarli. Abbiamo bisogno di un flusso costante di gas. Finora il Qatar ha prodotto delle eccedenze che potremmo essere in grado di compensare con il tempo. C'è ovviamente anche la possibilità che le cose vadano altrimenti. Quanto è importante è tuttavia correggere la rotta e provare a recuperare il terreno perduto. Se poi non ci riuscissimo, beh, dovremmo smettere semplicemente di guardare al passato e di piangerci addosso. Grazie a tutti.